Ma chi fa giù? Qualcosa si è mosso! Però che la f... Ah, le fosse! Vedi, è più di un posto dove staccare la testa a qualche orco, per quanto non guarderei altro da mattina a sera. Nelle fosse puoi mettere alla prova i tuoi seguaci, vedere come si comportano contro qualche bel nemico. Ci sono sempre orchi forti da combattere e se il tuo seguace sopravvive, si fortificherà. Se invece muore, beh, gli verrà dato ciò che si merita e avrai una potenziale nuova recuta. E a prescindere da come andrai i tuoi uomini gradiranno lo spettacolo, nulla attira sul morale come la vista di un cadavere. Oh, guardate! Non siamo degni di lui! I traditori vanno scorticati! Puoi prenderle! Visto? Non è stato bellissimo! Grog a volontà! Un sacco di risate, sangue ovunque, grog a volontà! Ah, i combattimenti nelle fosse sono i migliori! Sì, non è stato bellissimo! Sì, non è stato bellissimo! Sì, non è stato bellissimo! No, 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 no!